aderiranno alla manifestazione nazionale organizzata da CGL Cisley Will, il servizio è di Cristina Ferrini. Scenderanno nuovamente in piazza domani insegnanti e operatori scolastici per la manifestazione nazionale organizzata da CGL Cisley Will contro le novità introdotte dalla Buona Scuola. Dopo un anno dalla mobilitazione generale del 5 maggio, i sindacati si riorganizzano e scendono in piazza con il nuovo slogan, la legge sulla buona scuola, viene ribattezzata legge della pessima scuola. Tanti i punti su cui le sigle sindacali rivendicano una modifica dell'ordinamento, tra cui il mancato rinnovo del contratto dei presidi fermo a sette anni fa. Se pensiamo che ai presidi è stato bloccato il contratto per sette anni, mancherebbero in tasca oltre 400 euro al mese, le scuole sono in reggenza, noi abbiamo per esempio a Pordenone un preside che gestisce 17 scuole. Inaccettabile, riferiscono i sindacati, la proposta di aumento in busta paga di soli sette euro al mese per i dipendenti della pubblica amministrazione nella cui categoria rientrano gli insegnanti. Nuovi contratti di lavoro per restituire dignità alla categoria. Noi non accettiamo categoricamente la proposta del governo di aumentare le retribuzioni di sole sette euro l'orde pro capite. I lavoratori sono a scuola dalla mattina alla sera e questo non era previsto. E questo impegno, questa passione devono essere riconosciute. In queste ore si sta discutendo della questione del bonus premiale ai docenti che sta operando effetti di divisione del corpo docente. Una visione che è esattamente antitetica a quella che noi da sempre professiamo perché noi siamo per una scuola di tipo inclusivo. Per il secondo anno di seguito Bari ospita i tour operator svizzeri per promuovere l'esperienza elvetica in Puglia. Sentiamo di cosa si tratta. Non capita spesso...